Buongiorno a tutti, oggi siamo in direzione Villa Matilde Lenti a Modica per festeggiare il matrimonio di Lorena e Luca, a tra poco. Poi dopo il vino e dopo i 50 gradi per 6 ore l'aspetto cambia e diventa tipo un quadro, un quadro tipo l'urlo di Munch, una cosa del genere. Inizia ad avere un aspetto diverso. Allora proviamo tutti con l'urletto. Due, tre. Molto meglio, molto meglio. E allora accogliamo i vostri sposi qui a Villa Matilde. Creando empires dripping in gold. I only live for exclusive and bold. You know I'd pay but my card is at home. Cause I'm... Siete un pubblico siciliano, uno di quelli calorosi. Ho fatto un matrimonio l'altro giorno a Novara. Prima di farli sbloccare gli ho dovuto fare bene una cassa di... Dove sono gli amici? Ci sono solo loro quattro, ci sono quattro amici, dove sono gli altri amici? Ma perché hanno solo amici uomini? E se dicessi cerco un centro di gravità? Gravi, operati? La saranno tutta, quindi è bello. Con le mani su tutti, tutti, su, 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 su. Oggi sono le nozze di Luca e Lorena. Vogliamo tutti i piedi, tutti, chi vuole la fortuna degli sposi si anda. Solo chi vuole la fortuna degli sposi. Avvi la patente, accogliamo in sala i nostri, i vostri sposi. Vogliamo sentire la voce della famiglia e della sposa, dove siete? La voce della famiglia e della sposa, dove siete? La voce dei miei amici e degli sposi, dove siete? Rimani al cielo! Viva gli sposi! Allora, questa è una coincidenza. Non posso crederci! Io c'ho mamma che è di Torino! Un applauso a Torino! Non posso crederci! Io c'ho mamma che è di Pachino! Un applauso a Pachino! Sei il testimone e la testimone della sposa! E allora cosa aspetti? Raggiungici subito al tavolo degli sposi con un bicchiere di vino in mano! Pronti? Adesso parte una base e ondeggiamo a destra e sinistra. Pronti? 3, 2, 1! Siamo le mani del nostro amicino di posto. Con nulla! Di più! Più veloce! Raggiungeteli! Siamo le mani del nostro amico! Siamo le mani del nostro amico! E questi sono momenti dove il cuore vive! Remy! Siamo le mani del nostro amico! 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 un abbraccio a tutti e grazie a tutti oh ciao è buono grazie a tutti